Buongiorno. 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 Massimo De Gramandi. Sono segretario provinciale dell'UGL Trasporto Aereo Varese. Siamo qui oggi per manifestare e per chiedere l'intervento della Prefettura in modo tale che la Prefettura possa intervenire con la Direzione Aeroportuale dell'Enac, che è il Dottor Massimo Di, in modo tale da poter definire esattamente l'applicazione della caldo sociale, cioè quello che è avvenuto pochi giorni fa senza nessun accordo tra le parti dove ahimè purtroppo i lavoratori pagano le conseguenze di una differenza economica tra uno spostamento tra un'azienda. Quindi l'intervento che noi chiediamo oggi alla Prefettura è di attivare immediatamente un tavolo tecnico affinché si possa definire una caldo sociale di sito che possa creare e definire delle regole certe per tutti quanti, sia per le aziende che per le aziende. Grazie.